Secondo te Hobbie, Crysis 3 farà tutto questo? Lo permetterà? No, 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 no Non credo Non penso proprio Uccellini, da quanto tempo che non li toccavo, dal 2007, vieni uccellino Uccellini, ah, uccellini, Crysis, ecco, lanciare gli uccellini è pericoloso in Crysis Esplodono? No Ti rimbalzano addosso e muori Ma come ti rimbalzano addosso? Fanno male Fanno molto male Bah, sti coreani mi sembrano un po' mish Molto mish Ma l'ultima volta che ho giocato a Crysis erano un po' più reattive Forse perchè non l'ho baciato Mi rimbalzano addosso Mi rimbalzano addosso Mi rimbalzano addosso Mi rimbalzano addosso Ah beh, che lo devi rimbalzare No, no, no Ok, non lo fai una domanda tipo Ho fatto meglio Ho fatto meglio È un po' più pesante Però è fatto meglio Secondo me Rispetto a Crysis spacciato Ho capito Ho capito Salda, l'ultima cosa Cosa posso farci con questo coreano? Niente Più che... Starlo cedendo Aspetta, forse le riesco a riporterla Un secondo Ecco Cosa ci faccio con questo coreano? Eh, ma l'hai grabato la Sì, l'ho grabato L'ho dove impasto gli uccelli? Ah, l'ho in aria Per fare un vol WIIIIIIIIIIIIIIIIIII È atterrato anche... Con la spaccata Penso gli abbia fatto male al Pipin povero coreano requiescat in pace